di nuovo ad incontrare questa impresa romana che produce prodotti alimentari e che resiste alla crisi con l'innovazione. L'azienda l'abbiamo insediata all'interno di questo monastero benedettino, c'erano i vecchi forni che erano andati in disuso, io avevo avuto occasione, così fortuitamente, di visitarli. Io sono un architetto, facevo la mia professione, ho svolto l'attività di professionista su Roma per più di vent'anni, ero però molto stanca, mi occupavo di telefonia cellulare, quindi insomma cosa che mi aveva proprio saturata e quindi avendo avuto da sempre passione per la cucina, avevo così l'idea di metter su qualcosa annesso alla cucina. Sono venuta a conoscenza delle problematiche connesse con la celiachia, così incidentalmente con degli amici che avevano avuto la diagnosi di celiachia per il figlio e quindi così è nata quest'idea, prima tra un gruppo di amiche, ma poi insomma per me, che ho comunque la testa di un progettista, ho sempre pensato che se avessi fatto qualcosa mi sarebbe piaciuto misurarmi con un'imprenditoria a tutto tondo e questo argomento era sufficientemente di sfida anche per il mio carattere e quindi così mi sono informata, ho trovato un finanziamento per le aree periferiche, ho presentato un progetto, non avevo mai fatto un business plan, cioè invece è uscito proprio così, si vede che c'era, era un qualcosa che evidentemente covava da tempo, e quindi così una volta che ce l'hanno finanziato io ricordo questo momento con mio marito, le mie figlie, che facciamo? La mamma cambia la vita o no? Insomma le mie figlie tra l'altro allora mi dissero mamma ma le altre pensano alla pensione e tu a 50 anni cominci a mettersi una nuova cosa. E quindi è nata così, è nata da una passione, dalla voglia di costruire, che dà la voglia anche di misurarsi, sì, con il sistema di regole di questo Paese è anche un po' una sfida capire se è possibile mettere su una impresa nel rispetto di tutte le regole, di tutte le norme che potesse poi anche funzionare economicamente.